Ciao, benvenuti a tutti su Gold di Unicorn Art. Come state carissimi e carissime? Allora, andiamo un po' a vedere le energie di oggi, che cosa vi vogliono dire. Allora, incominciamo a tagliare questi oracoli, poi faremo tarocchi e sibille e poi metterò le sibille. Allora, vediamo qui l'energia generale. Qui abbiamo un mantra bellissimo con un bel triangolo che dice che ci sono delle forze interiori che si stanno muovendo, che però, anche se apparentemente c'è una separazione o non accadono le cose, tutto sta lavorando per la luce. Quindi è proprio grazie a questa luce che qualcosa sta nascendo dopo un periodo di confusione. Quindi partiamo con le nostre sibille e vediamo, carissimi sempre, grazie a tutti di essere qui con me, è sempre un piacere. Allora, vediamo le sibille, andiamo a fare un gioco antico con le sibille e vediamo che cosa ci dicono. Ok. Allora, qui c'è una riunione, quindi già questa riunione potrebbe essere dovuta a due persone che si sono separate, due persone che si devono incontrare tenendo conto anche di questa carta che ci parlava appunto di luce, che la luce sta lavorando per qualcosa, l'universo sta lavorando per voi in un certo senso, per un incontro, per una riunione. Ti arrivano anche delle notizie inaspettate e qui c'è anche la passione, perché questa carta nella sibilla rappresenta anche qualcosa di molto sensuale, quindi qui c'è qualcosa che si muove proprio nel senso dell'amore, quindi si può già dire che queste carte ci parlano già d'amore, vedremo le altre. Adesso esci tu, io le faccio sempre al femminile, quindi valgono sia per uomini che per donne, però diciamo che questa potrebbe essere la consultante o il consultante. Quindi esci tu, vediamo che cosa hai vicino, potresti avere vicino un'amica o potresti sentirti in questo periodo vogliosa di sentirti più leggera, più giovane, potrebbe essere un aspetto della tua personalità. Magari ultimamente ti sei sentita un po' pesante, adesso hai voglia di sentirti leggera. È come se avessi meno paura della tua vulnerabilità, della tua fragilità. E poi qui c'è la casa che è sotto alla stanza, diciamo, questo è un regalo, e vicino alla riunione questo è un preludio di qualcosa che sta per accadere. Quindi è già come se l'universo ti dicesse, guarda, ti ho ascoltato, ho ascoltato il tuo cuore, adesso sono pronto a realizzare la cosa che è più profonda dentro di te. Quindi è come se tu aspettassi qualcuno e l'universo in qualche modo ti favorisse questo incontro. E perché te lo favorisce? Come mai l'universo che è uno specchio comunque fa questo? Perché nulla accade per caso, no? Vediamo un po' con queste carte, con questi oracoli. Allora, come mai lo specchio dell'universo, quindi vuol dire in qualche modo che hai delle buone energie in questo momento, delle energie che si sono aperte, perché prima secondo me eri più chiusa, si sono aperte, hanno meno paura della propria vulnerabilità, tu hai meno paura della tua vulnerabilità, è come se dicessi, senti, io adesso vado avanti, non posso sempre fermarmi o farmi fermare dai pensieri della mente. Ecco, vediamo un po' come mai l'universo. E beh, ecco qui, abbiamo già una risposta, poi la stesa ce ne darà ancora di più naturalmente. Beh, questa è una carta molto bella, il pozzo vuoto va riempito, il tempo di riempire, no? Quindi tu hai svuotato te stessa da tutto ciò che non ti serviva più, che dovevi lasciare andare, e adesso sei pronta a riempire. Quindi ecco perché qui c'è della luce dentro. La prima carta ti diceva, guarda che c'è la luce, la luce rappresenta appunto anche il divino, l'universo, quindi che c'è la luce che in qualche modo sta facendo accadere delle cose, sta schiarendo il buio anche, no? Vediamo il buio che c'è qui intorno. Quindi qui è come se l'universo ti dicesse io te lo riempio di luce questo. Ecco perché ti favorisce così tanto in questo momento. Perché tu adesso hai bisogno di vivere il tuo sé autentico. Molte persone credono di avere dei desideri che non sono reali, perché questi desideri possono essere, diciamo, il frutto di quello, di un'educazione, il frutto di credenze. Quindi adesso invece c'è il tuo vero sé, quello più autentico, che togliendosi le maschere sa veramente quello che vuole. Ecco perché l'universo sente e vibra con te e ti manifesta ciò che vuoi. Perché veramente stai diventando una persona sempre più autentica, che ascolta le tue profondità, ascolta i tuoi veri desideri. Ogni volta che sei a contatto con una situazione, con una persona, con qualcosa che tu sai, dovresti sempre chiederti, come diceva Castaneda, ma questa strada, questa situazione ha un cuore, dovresti chiederti se per il tuo cuore, per il tuo sentire più profondo, quella persona, quella situazione va veramente bene. E la sensazione che avrai sarà la tua risposta. Perché se la tua sensazione è di pace, di sentirti a casa, qui oltretutto è venuta la casa, quindi tu ti sentirai a casa in una situazione, te lo dico già. Però qui le carte ti dicono anche se tu ti senti a casa, se senti che questa via, che questa strada ha un cuore, che la situazione che stai vivendo ha un cuore, un'espansione, un'evoluzione, allora sappi che quella strada, quella situazione, arriva dal tuo sé, quel desiderio arriva dal tuo sé più autentico. Mentre invece se tu senti dell'attenzione, per esempio, se non senti della pace, probabilmente quella non è la strada per te adesso, magari lo sarà più avanti, ecco. Quindi qui incominciamo molto bene, quindi se sarai riempita di luce e della tua stessa luce, del tuo sé divino, prendiamone un'altra, che quando degli oracoli o delle carte parlano in modo particolare, sento proprio il desiderio di prenderne ancora. Vedi, tu qui, la bussola perduta, tu in effetti avevi proprio perduto il tuo vero desiderio, chi è riconformata a livello inconscio, ha i desideri, diciamo, indotti, ecco. Mentre il desiderio della tua anima è molto diverso, perché non ascolta null'altro che la realizzazione pura di questo desiderio. Quindi questa bussola perduta è ritrovata, perché questo è il ritorno alla tua stessa integrità. E l'integrità la puoi avere solo nel tuo sé autentico, perché il sé è connesso direttamente al divino. Quindi se non ti senti in pace e non connessa col divino, non solo farai fatica a realizzare i tuoi veri desideri, magari realizzerai dei desideri, ma non quelli più profondi. Qui invece ti dice che questo ritorno all'integrità ti fa già capire che questo ritorno di questa persona o questo incontro, perché questa è una riunione, quindi potrebbe essere anche una riunione di due persone che magari non si conoscono, magari è una riunione di due anime. Quindi qui ti stanno dicendo queste carte, questo gruppo, diciamo, di oracoli, ti sta dicendo che c'è una forza incredibile che sta spingendo te e quest'altra persona che farà parte del tuo incontro nella direzione giusta. Quindi andiamo a prendere un po' di tarocchi adesso. Allora, vediamo che cosa hanno da dirci i tarocchi. Allora, tanto questa si è girata, quindi la prendiamo. Qui, vedi, abbiamo di nuovo l'incontro. L'incontro di due persone equilibrate, perché hanno comunque un... Lui ha una bilancia in mano, quindi desiderio di equilibrio, e sta mettendo nelle mani di lei della polvere. Questa polvere potrebbe essere così, una polvere magica, anche perché questa polvere è nella mandorla divina. Questi due cerchi, uno sovrapposto all'altro, che insieme rappresentano l'infinito, vediamo che c'è un po' di luce qui che non si vedono molto bene, comunque si vedono bene anche nel retro di questa carta, sono la mandorla divina. Quindi questo incontro c'è, perché questa persona che verrà verso di te sente proprio questo desiderio di venire verso di te. Quindi vediamo un po', ma studiamo un po' questa persona. Vediamo un po', ecco, questa si è girata. Allora, questa persona è una persona in questo momento solo, solitaria, che forse aveva abbandonato l'idea dell'amore, forse anche questa persona portava delle maschere, non era in contatto con i suoi veri desideri, però qui vediamo questa speranza che c'è, questa persona con le braccia chiuse, che dà proprio il senso di chiusura, è seduto con le braccia chiuse, come dire no, non voglio più amare, però qui vediamo che dall'alto, nella mandorla divina, qui abbiamo proprio una coppa in mezzo alla luce, come se a un certo punto questa luce inondasse questa persona e fosse un richiamo e gli dicesse non essere triste, io sono il tuo richiamo dell'amore. Quindi è come se questa persona venisse davvero spinta verso l'amore e poi di conseguenza verso te, però qui siamo ancora nella fase di, perché ho detto indaghiamo un po' su questa persona, no, siamo ancora nella fase dove questa persona è chiusa ma viene chiamata in modo inequivocabile da questa coppa di luce perché tutto sommato in fondo in fondo questa persona non è veramente chiusa, porta anche gli delle maschere e quindi non si riconosce più, ha perso il suo sé autentico, ma il suo sé autentico è sempre con questa persona, è sempre con noi questo sé autentico, siamo noi che non lo vogliamo vedere, quindi questa coppa rappresenta il sé autentico di questa persona, rappresenta quindi la connessione con l'universo ed è come se gli dicesse guarda alza gli occhi al cielo che io sono qui, quindi questa persona viene chiamata e richiamata all'amore nonostante la sua chiusura, quindi tu potresti aver avuto una chiusura con qualcuno ma questa persona verrà richiamata dall'amore del sé divino, quindi dal suo stesso amore, verrà risvegliata l'amore e perché questo? Perché tu hai fatto lo stesso processo oppure lo stai facendo, perché forse nella tua solitudine, nella tua mancanza di qualcosa si è aperto un varco, si è aperto un varco, il pozzo vuoto, ti sei sentita per tanto tempo come un pozzo vuoto, ma questo pozzo vuoto verrà riempito dalla luce dell'amore. Allora, continuiamo a vedere un po' questa persona, di studiare un po' le sue, dunque questa persona quindi era chiusa, viene chiamata dall'amore, vediamo un po' cosa succede. Tagliamo sempre, succede che si sente improvvisamente forte, si sente, vedete, tutto questo fuoco, questa voglia di fare, come un bastone di luce, ha un bastone di luce che dice adesso vado avanti, quindi questa persona da spenta, come si vede bene qui, spenta e chiusa, viene richiamata dalla luce e incomincia il suo cammino, si sente proprio chiamato, si sente spinto verso l'amore, quindi questa persona si alza in piedi e incomincia a sentire che in mano ha, diciamo un bastone magico, chiamiamolo così, che metaforicamente, che è la sua nuova forza, la forza di conoscere se stesso e questa persona vuole conoscere se stesso attraverso te perché è più difficile, è più facile conoscere l'altro e conoscere se stessi attraverso l'altro. quindi vedi questa persona quindi cosa fa? Guardate che chiarezza, che chiarezza di canalizzazione qui. Allora, qui questa persona dalla sua chiusura viene chiamato dall'amore, si alza, non ha più paura, si vede il coraggio in questo fuoco, la passione della vita, anche non solo la passione dell'amore che avevamo peraltro già visto nelle Sibille, ma si alza questa persona e va verso la sua regina di coppe, va verso la sua amata e quindi la sua amata sei tu. E come lo accoglie questa amata? Questa amata, a sua volta, lo accoglie con una coppa sempre nella mandorla divina. Quindi è come se queste due coppe facessero parte della stessa intenzione, dell'intenzione divina. E che cosa ci vedete voi in queste coppe? Io ci vedo un forte richiamo, un forte sentimento, qualcosa che si riapre. Vediamo che cosa ci dice questa Sibilla. proprio su queste due coppe, su questo incontro, diciamo, che avevamo appena visto. Vediamo che cosa ci dice. Noi adesso stiamo guardando un po' le forze invisibili, ma io voglio vedere anche poi nel visibile, nella terza dimensione, cosa succede. Allora questa è volata, un omaggio. Vedi, era già venuto l'omaggio. Quindi qui è un regalo, il trovarsi o ritrovarsi per la prima volta o l'incontro vostro è un regalo proprio, davvero. Qui qualcuno viene spinto verso di te, ma è un dono, è un dono divino. Quindi è un regalo reciproco. E vedi, qui esce proprio la persona. Allora qui abbiamo la matrice, che sei tu, e l'amante, che è lui, che rappresentano proprio nelle sibille le persone che si vogliono bene, che si amano, no? Quindi abbiamo la regina di cuori, abbiamo il re di cuori, è qui. Quindi qui proseguiamo, andiamo un po' a vedere che cosa succederà. Andiamo a vedere cos'è questo qualcosa di così forte che fa agire queste persone in questa dimensione, diciamo, no? Abbiamo guardato questi aspetti sottili che però non è che non esistano perché i sentimenti non si vedono ma ci sono, no? I pensieri non si vedono ma ci sono. Quindi qui abbiamo l'inizio di una nuova vita, l'inizio di un viaggio, il vostro viaggio, il vostro viaggio che inizia speranzoso. Allora, qui siamo sempre un po' nella parte emozionale. ecco, questa persona quindi adesso da chiuso che era, quando viene richiamato e spinto verso di te si sente di nuovo innamorato, di nuovo innamorato dell'amore, diciamo, rappresentato poi da te e sente che ha la speranza di incominciare una nuova vita. Probabilmente questa persona aveva smesso di credere all'amore e ai sentimenti, invece adesso ci crede di nuovo, ci crede ancora. Poi alla tua vista ci crederà ancora di più perché tu esci appunto sia come regina di coppe sia qui che nei tarocchi che nelle sibille. Quindi qui abbiamo proprio qualcuno che rinasce alla speranza della vita e dell'amore. E guarda, adesso in questo momento questa persona sta sospirando. perché sta sospirando? Perché nonostante tu sia un richiamo energetico molto forte non sei ancora nella sua realtà attuale. Questo secondo me è il preludio che precede questo vostro incontro, questa riunione che era venuta subito. Quindi è un incontro che sa di diverso da sempre diverso da ogni cosa che puoi aver vissuto magari prima perché qui sono due anime che stanno per incontrarsi che lo sanno di incontrarsi queste due anime ecco e non possono non farlo perché si appartengono. Qui c'è una spinta divina troppo forte per essere ignorata. Vediamo ancora. Sì sospira perché teme teme di non riuscire a esprimere tutto ciò che ha dentro però però tu sei tanto nei suoi pensieri tanto anche se diciamo non vi conoscete ti sente sente che è arrivato il momento dell'incontro lo sa lo sa la sua anima lo sa l'universo ecco questo lo sente lo percepisce vi ricordo sempre che questi sono video interattivi motivazionali che ti spingono nella realtà desiderata perché diciamo l'ispirazione è la conoscenza della fisica quantistica che ti dice molte persone che mi seguono lo sanno lo dico sempre nei video che ti dice entra in questa realtà se ti risuona e riesci a sentire come tu questo la tua vibrazione si uniforma e riesce a manifestare la tua realtà d'altronde questa è una canalizzazione spontanea e quindi andiamo a vedere che cosa vorrebbe questa persona che in questo momento appunto è ancora nel prelugio dell'incontro questa persona vorrebbe parlarti come se fossi una persona che conosce da sempre vorrebbe sentirsi al di sopra delle parti l'uomo di legge significa anche questo certo non vuol dire in questo caso in questa stesa che è una persona giudicante vuol dire semplicemente che al di sopra di di qualsiasi conflitto possa accadere vuole vuole viverla così perché ha sofferto troppo e secondo me se questa è una persona che conosce questa persona sta facendo lacrime tipico linguaggio diciamo della Sibilla però tu sei la sua consolazione sei la sua luce perché la stesa è partita con un tipo di vibrazione poi siamo andati a vedere che cosa sta realmente accadendo e ricordiamoci sempre che quando noi proviamo gioia allora le cose accadono perché se noi non ci sentiamo felici ci sentiamo tristi ci sentiamo chiusi anche la vita ci rispecchia quindi bisogna sempre comunque sforzarsi nonostante le difficoltà di ritornare a quello lo stato naturale che è molto più semplice di quello che noi pensiamo basta le volte un pensiero bello basta le volte ripensare a delle cose belle per togliersi dallo stato negativo quindi vediamo un po' adesso che cosa succede allora voglio vedere un po' che cosa ci dicono questi altri tarocchi cosa succede cosa succede cosa succede vediamo beh qui abbiamo proprio l'alveare l'alveare è sempre nutrimento è sempre qualcosa di profondo tutto ciò che riconduce a quell'ordine divino che comunque è dentro di noi come le api lo sentono le api sanno esattamente cosa devono fare ognuno ha il suo ruolo sa cosa deve fare l'ape regina sa cosa devono fare le api operaie e così via perché seguono quest'ordine divino noi esseri umani questo ordine divino abbiamo un po' smesso di sentirlo allora questa persona è come se si volesse riconnettere a questo ordine divino perché è questa la forza che dà l'universo in questo momento questo ordine divino è proprio l'aiuto che in questo momento dà l'universo quindi sentire pregare meditare in questo periodo in questa fase è molto importante oltre a sforzarsi appunto di avere pensieri belli diciamo quindi qui c'è l'avviamento il carro quindi qui c'è il volo il volo verso di te perché il volo rappresenta anche il volo di due anime l'anima anche rappresenta quindi qui a questo punto qualsiasi cosa accada questa persona è pronta a volare a venire verso di te succeda quel che succeda questa è la sensazione è come se fosse questa persona in una totale vulnerabilità che si lascia fare si lascia condurre diciamo da qualcosa di più grandi da queste forze invisibili e viene proprio verso di te che diciamo sei nell'attesa ma non quell'attesa carica di aspettativa sei in quell'attesa sicura di te come un'orsa sei lì che ti godi il tuo momento godi la vita sei nella diciamo in un'attesa sentita sentita nel tuo profondo quindi questa persona vola verso di te viene verso di te e tu sei secondo me in pace tranquilla anche tu vedi questi due uccelli si incontreranno anche tu a un certo punto ti muovi vai verso la tua strada queste strade sono interiori è un sentire poi diventano anche esteriori queste due strade a un certo punto fanno vedere questo incontro questo incontro di anime rimane sempre un po' metaforica nel simbolismo questa stesa le volte le stese sono molto pratiche molto realistiche alle volte rimangono un po' diciamo un po' più sul simbolismo perché evidentemente vogliono smuovere qualche energia ecco comunque poi alla fine questo incontro c'è tra di voi vediamo un po' è la persona che ti chiama che viene verso di te che fa la prima mossa perché qui comunque abbiamo l'asso di bastoni che rappresenta anche la notizia quindi è questa persona che a un certo punto ti chiama o si fa viva o appare nella tua vita così come deve apparire così come è naturale che appaia e viene come una persona proprio vera reale in carne e ossa come l'imperatore viene come un palazzo come un grattacielo viene perché c'è sempre quest'idea dell'alto quindi perché viene rappresentato da un grattacielo in questa stesa naturalmente perché le carte cambiano naturalmente significato a seconda del tessuto diciamo su cui vanno a cadere quindi qui questo imperatore rappresenta proprio come se un uccello davvero volando si mettesse in cima a un grattacielo perché vede meglio vede meglio la sua prossima mossa la mossa giusta che deve fare verso di te verso la sua regina di coppe ecco quindi vede dall'alto tu potresti essere anche quest'altro grattacielo vicino allora quindi ti chiama o si presenta si manifesta nella tua vita chissà le volte attraverso conoscenze e poi c'è questo incontro che che sa un po' di mistero questo incontro lo percepisci tu dentro di te ci sono delle forti emozioni qui che viaggiano perché c'è la luce e l'ombra quindi è come entrare nelle profondità diciamo del proprio inconscio quindi questa persona arriva si lancia secondo me dall'alto io la vedo lanciarsi dall'alto cioè viene direttamente verso di te ti riconosce la sua anima ti riconosce quindi qui c'è proprio un incontro che avviene quasi anche segretamente una cosa vostra potreste essere anche in mezzo a mille persone ma tra di voi scatta un qualcosa che nei vostri occhi svela le vostre profondità forse perché vi siete conosciuti in altre vite quindi vediamo c'è qualcosa di più forte che vi fa agire e lo sentite e basta come avvengono alle volte o possono avvenire alle volte i colpi di fulmine ecco anche se vi conoscete già potrebbe essere infatti abbiamo visto che potrebbe essere come un viaggio nuovo come se vi conosceste davvero per la prima volta e qui abbiamo la caduta diciamo delle delle vostre dell'ego la caduta delle maschere quindi qui questo incontro avevamo già visto qui che vi trovavate come se autentico qui non potreste non potrete non essere voi stessi sarete assolutamente voi stessi negli sguardi nel comportamento vediamo un po' qualche parola che ti dice questa persona sapete che mi piace sempre prendere questo mazzo che interpreto ogni volta in modo diverso perché a seconda sempre di come vengono le altre carte tagliamo vediamo un po' questo incontro così importante che sembra quasi appunto con l'avventurina verde di vivere un film qui è come se la persona ti dicesse sono stato trasportato dal flusso della vita che poi è un flusso divino dinanzi a te quindi ora mi posso fermare perché è tanto che viaggio è tanto che aspetto di questo incontro quindi non ci saranno filtri diciamo perché il vostro incontro sarà talmente gioioso diciamo talmente riconosciuto un riconoscimento dal profondo che secondo me questa persona ti dice tu sei il mio desiderio più prezioso e quindi si avvicina a te e si avvicina e tu sei aperta apertissima sei molto aperta e ti ritrovi nuovamente nel tuo sogno nei tuoi sogni ti senti proprio che hai realizzato un sogno il sogno che volevi su questa stesa così profonda però io vi voglio dare sento che è il momento giusto di darvi dei numeri allora vediamo un po' di mischiare questo alle volte vi do dei segni alle volte vi do dei numeri vediamo questi numeri che cosa vi vogliono dire sono dei numeri che tracceranno come la strada queste due strade che abbiamo visto prima che a un certo punto si incontrano che saranno importanti in questo momento per ritrovare quella persona che tu vuoi veramente dalle profondità della tua anima allora primo non poteva che venire un numero magico come il 22 che rappresenta anche il creatore rappresenta proprio il divino e la realizzazione quindi qui c'è proprio questa spinta che abbiamo visto fino adesso perché comunque diciamo il 22 è sempre un numero grandemente magico quindi se vedete il 22 quindi per adesso guardiamo questo non tutti gli altri il creatore che poi il creatore sei tu della tua stessa vita l'otto che rappresenta anche il numero dell'infinito che rappresenta anche il potere ma non il potere dell'ego perché in questo caso abbiamo visto che l'ego è caduto con tutte le sue maschere qui abbiamo proprio il potere diciamo della luce ecco quindi questi due numeri importantissimi ve ne do un altro che è l'uno questa carta vi dice anche di stare un po' attenti alle insicurezze perché è molto facile che possano ripresentarsi diciamo delle paure perché non siamo perfetti quando incominciamo una strada nuova e ci sentiamo bene le insidie ci sono sempre ma ricordatevi che sono sempre delle prove sono delle prove che se vengono superate poi non si presentano più e quindi anche l'uno vi do quindi questi numeri se li vedete in questo periodo o quando li vedrete se li vedete tutte e tre insieme è il massimo diciamo quando li vedete saranno il vostro momento il vostro momento di riconoscimento della comunicazione della connessione con il divino vediamo ancora condividere la fiamma beh qui ci possono essere fiamme fiamme gemelle la fiamma oppure la fiamma rappresenta appunto condividere quella luce quindi questa carta incomincia parlandoci di luce e per tutta la stesa la luce ci ha accompagnato e la stesa in modo sincronico si conclude condividendo la luce e la sapienza quindi il vostro incontro sarà come abbiamo visto sì un incontro profondo ma un incontro che fanno tutte le vostre anime qui abbiamo l'angelo Melael che vi dice che avrete un grande valore uno verso l'altro quindi carissime carissime come sempre io vi ringrazio dell'ascolto e vi mando un grandissimo namaste a tutti ciao ciao